Ormai la crisi si è strutturata e anzi riscontriamo tra i casi di adulti persone nuove, nuovi utenti, nuovi parlo ormai da qualche anno, che sono ex liberi professionisti, ex piccoli artigiani. In un anno sono stati oltre 2.500 gli accessi agli sportelli dei servizi sociali del Comune di Mira. Le richieste di aiuto sono in continuo aumento, i casi sempre più complessi. Aumentano ad esempio i servizi di assistenza ai minori, indice spesso di una criticità che coinvolge l'intero nucleo familiare. In quest'ambito i 105 casi del 2016 hanno già superato il totale dell'anno scorso. Ma aumentano anche le problematiche legate all'emergenza abitativa, da 31 a 43, o gli adulti alle prese con dipendenze o problemi psichici. Sicuramente un qualcosa che non aiuta è la mancanza della rete sociale, la rete familiare. Spesso è proprio lì che le persone vanno in caduta libera per svariati motivi. Una condizione di emergenza che richiede un ulteriore sforzo, anche economico, agli enti locali, magari già alle prese con le difficoltà a far quadrare il bilancio. Noi diamo più di 3 milioni di euro all'anno ai servizi sociali, intesi come la parte più fragile, quindi minori, anziani, disabili. Questa è una somma mostruosa e noi ogni anno riusciamo ad aumentarla, l'abbiamo aumentata anche quest'anno, nonostante le risorse sempre più contratte dovute ai tagli che ogni anno ci sono mascherati o meno da Roma. Lo Stato ogni anno spende di più e toglie di più ai comuni. Io li imploro, lasciano ai cittadini le risorse tramite i comuni per rispondere almeno a questi bisogni che sono i più gravi.